Grazie mille, grazie davvero, un saluto, un grosso abbraccio a tutti voi e vi voglio dire una cosa importante, vi aspetto il 3 luglio Night Fashion, The Beach, Karma TV, qui alle ore 20, i ballerini più famosi del mondo, qui con noi, Karma TV Night Fashion, qua c'è un casino, è così che la gente si diverte qui al The Beach, siamo arrivati al grande evento, il compleanno delle amiche è edificibili, abbiamo 800 persone che sono venute da noi a festeggiare e siamo contentissimi di avere anche te, di noi, di questa bellissima gente, di essere sempre con noi, vi aspettiamo a tutti il 3 di luglio per la grande gara internazionale qui al The Beach.